Io mi innamorai di te dal primo giorno che mi presi in fabbrica. Sei tu il mio fidanzato. Sono le tre. Tre ore possiamo stare insieme. Stai di qua, vedi di qua! Torna da me, ritorna! Soprattutto, ammazza! Uffa! Ossio, ma quello mio fratello! Chi fu? Chi fu, lo diciamo noi. Voi dite chi è stato. È venuta! Ma non mi vuoi più bene. Anzi, sei tutta la mia vita. Nullo, perché non mi cercasti? Ma io ti ho cercato. Non te l'hanno detto? No. E tu, perché non mi cercasti? Perché... ti mettevo vergogna... e tu che età. E suières, sai, sai. E se vuoi perché non mi vuoi venire. Dove mai rToo integro! Ma